Come reperire le risorse per accendere un'idea di impresa e cogliere un'opportunità di sviluppo? È l'obiettivo del piano di sviluppo rurale della Regione Veneto, illustrato in una serie di appuntamenti organizzati nei luoghi nevralgici a vocazione agricola del Veneto. Grande interesse anche all'incontro a Lendinara nel Basso Polesine. Il bilancio è positivo per queste serate, ogni volta più di centinaio di partecipanti. È più positivo però il bilancio del nostro programma regionale, del programma di sviluppo rurale, che ormai ha superato i due terzi di risorse già impegnate a favore dei beneficiari e sfiora ormai il 30% della intera dotazione finanziaria già pagata sui conti correnti degli agricoltori e di tutti i beneficiari delle varie misure. Quali sono le idee che si possono ancora sviluppare? In questo momento noi siamo prossimi all'apertura di 12 bandi su 12 tipi di intervento. Spaziamo dal sostegno ai giovani agricoltori, al sostegno all'innovazione, all'ammodernamento, agli investimenti delle aziende agricole per arrivare anche ad alcune misure agroclimatico-ambientali legate alla realizzazione, sotto il coordinamento dei consorsi di bonifica, di fasce tampone e infrastrutture verdi. Non è solo questione di risorse che purtroppo non sono sufficienti a soddisfare le richieste, ma anche di informazioni che possano aiutare lo sviluppo di un'attività in continua evoluzione, che coinvolge anche altri ambiti, da quello turistico a quello ambientale. Servono piani strutturati. È fondamentale perché attraverso gli aiuti, i contributi che dà ai beneficiari, consente proprio degli investimenti che non sono legati al mero contributo, ma che comportano comunque degli investimenti sempre maggiori in un'area, che non coinvolgono solo gli agricoltori, ma anche tutto l'indotto che serve per fare l'intervento. Il primario ha saputo collegarsi ai settori della trasformazione, ad un mercato che non è più il mercato locale, ma un mercato nazionale e internazionale. Si sono saputi avvicinare i polesani a quella che è la logica del mercato di Padova, il mercato ortofrutticolo di Verona, poli diversi, quindi la grande distribuzione. Quindi veramente ci sono segnali che danno un segnale sicuramente positivo. Bisogna informarsi, studiare, non è più come una volta HCCP, poi quando chi accetta il biologico, quindi insomma tutta una serie di cose che non si devono sottovalutare. Soddisfatto della sua professione? Sì, sì, molto.